E' alto un metro e sessantotto e pesa settantasei chili! Si impegna duramente per raggiungere l'apice della forza ed è il campione che regna sovrano nell'arena sotterranea! Baki! Amma! E' alto un metro e ottantadue e pesa ottantacinque chili! E' il lottatore noto come la Shura! E' dotato di un innato istinto combattivo e di una grande abilità strategica! Non ha il minimo dubbio sul fatto che un giorno diventerà l'uomo più forte del mondo! Oma! Tōkita! Quando ti ho visto ho sperato che sarebbe potuto accadere Ho pensato che saresti stato tu il mio avversario